La prima cosa fu dare un luogo per dormire e poi il cibo, i vestiti, le coperte. Ora l'ex caserma dei Vigili del Fuoco, grazie al lavoro della protezione civile, è diventato non solo un luogo di accoglienza, ma un vero e proprio punto di riferimento per i profughi ucraini. C'era il problema dell'integrazione, dello studio e dell'imparare l'italiano e immediatamente si è allestita un'aula e nell'aula è stata collocata una lavagna interattiva. In quest'aula le persone imparano l'italiano e quindi aprono la strada alla loro integrazione, alla possibilità di lavorare, alla possibilità di andare in una scuola a studiare. Quindi per noi è fondamentale insegnare l'italiano alle persone di nazionalità ucraina che sono ospite di questo centro di accoglienza. Non avremmo mai potuto farlo senza questa importantissima attrezzatura tecnologica che il Rotary immediatamente ha ritenuto di voler acquistare ed è un'attrezzatura che non solo servirà al centro di accoglienza, ma quando, e si spera presto, questo centro di accoglienza non ci sarà più, andrà ovviamente a diventare una dotazione della scuola Gabelli appena ristrutturata e a breve aperta. Il Rotary è sempre presente per raccogliere i bisogni del territorio e per dare un aiuto concreto e significativo per quello che è soprattutto l'accompagnamento, l'integrazione e dare la possibilità di un futuro e di potere anche cambiare le vite delle persone che arrivano nel nostro territorio, soprattutto in questo momento. Qui ogni mattina i ragazzi, diciamo quelli in età tra i 13 e i 16 anni circa, la mattina partecipano alle loro lezioni online perché l'Ucraina si è strutturata a causa della guerra, praticamente fanno lezione sempre in dad e quindi loro da ogni parte del mondo, ovunque siano, partecipano alle loro lezioni e cercano di connettersi.